Ah, è ancora lui, il nostro Elastic. Attenzione pubblico è il... Spettacolo! Si, un momento. Intenzione pubblico speciale e tecnico... Che cosa c'è? Eh, che cosa c'è? Che passa? Che è? Che... Che... Un momento, problema tecnico... Scusi... Eh, che... 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 Che passa qui? Che è? Che è? Che è... Che è? Che è? Che è? Che è? Che è? Bravissimo... Che è? Che è? Che è? Un momento... Mie... Chia... Puff, puff... Puff... He... Y... He... Ehm, problema! Oh! Oh, ok. Ok, ok. Tu va bene! Tu va bene! Ok. An... An... Che eh? Un momento. Non, questo è vero. È vero. Ah, questo è pericoloso. Ok? Si. Che bello, si. Intenzione pubblico. Il... ...spectacolo. Il spettacolo del... ...gianglage. Ah, vuole fare della giocoleria. Ed è pure bravino. Eh, sì, ha decisamente un problema. Sembra un enorme criceto. Eh, niente, non ci riesce da solo. Ha bisogno che qualcuno lo aiuti. Ma non, non ci riesce da solo. Ma non, non ci riesce da solo. Ok? Ok. Ok. Ok, ok. Ok, ok. Ok, ok. Ok, ok. Ok, ok. Mi? Mi? Io con me? Io? Ma che sapere? Che cosa l'ho? Eh, che cosa l'ho? Beh, non è proprio facile comprenderlo, eh? Oh, la... ...la, la... ...si mi! È facile, eh? Come cosa? Eh? Eh? C'est quoi? Là, là, c'est mi! Mi! Oui! 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 Io? Ah, ma che pas moi, c'est pas lui, eh? Non, c'est moi! È l'avis! È l'avis! Oui! Mi! È l'avis! Mi! Io? Moi, c'est Fred. Fred! Ehi! Sì! Io lo devo cari! Io me l'ho! Io lo devo cari! Io lo devo cari! Ok, vクra! Sì, come è? Come... Come è? Ok? Sì, come è? Sì, come è? Sì, ok! Ah, no! Ah! Sì, come è? Ok? Sì! Sì, come è? Sì! Sì, come è? Sì! Vediamo perché. Ha, come va la. Ok. Ok, ok, ok. Come va, non lo so, non lo so, ne lo so. Non so, ne lo so, ne so, ne lo so. Ja va, ok? Come va, la va. Se che che viene a la man, se che va. Pobretta! 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 Finalmente è tornato ad essere un uomo normale! Si fa per dire! Grazie mille! un momento che sei bello grazie bello grazie a tutti Giai grazie a tutti